Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di Cronaca 4 di mercoledì 5 dicembre. Apriamo il nostro notiziario con una news dalla regione Liguria per parlare del blitz a sorpresa dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Genova negli uffici della Presidenza del Consiglio regionale della Liguria nell'ambito di un'inchiesta per ora a carico di ignoti della Procura di Genova che ipotizza il reato di peculato. I militari avrebbero sequestrato documenti relativi a spese e benefit dei consiglieri di tutti i gruppi nell'ambito di controlli sulla spesa pubblica. Sequestrati anche i conti dei telepass in uso ai consiglieri analoghi controlli sono in atto da mesi anche in altre sedi regionali. Torniamo nel comune e nella zona della Spezia, il comune di Lerici in questo caso che da qualche giorno è alle prese con un caso davvero particolare, quello delle multepazze. L'amministrazione Lericina oggi ha cercato di fare chiarezza facendo sapere che si tutelerà nelle sedi opportune. Ha raccolto nuovi dettagli Simona Pardini. L'amministrazione comunale di Lerici fa chiarezza sul problema delle multepazze. All'arrivo di una multe irregolare il 17 ottobre l'amministrazione si è tempestivamente attivata inviando una lettera di chiarimento il giorno successivo al comando di Polizia Municipale diretto da Monica Botto. Altre lettere sono succedute per chiarimenti il 27 ottobre ed ancora altre. pare che le prime avvisaglie di irregolarità si siano verificate a luglio ma il tempo della postalizzazione, di solito 90 giorni, avrebbe rimandato la scoperta delle multe irregolari. In tutto 250 quelle accertate. Altre ancora da verificare in quanto l'indagine interna ed esterna sta mettendo in luce orari e date di sanzionamento. Infatti la verifica sta comportando un riscontro tra l'orario in cui risulterebbero effettuate le multe e la presenza in servizio degli agenti. Al momento del rilevamento dell'irregolarità è partita subito una perizia informatica sui software gestiti dalla società Microrex e la parallela verifica della verbalizzazione da parte dell'ICA, società deputata all'invio postale dei bollettini. Al momento il sistema è tornato alla normalità, il rilevamento delle multe è regolare. L'amministrazione per tutelarsi ha comunque intrapreso un colloquio interlocutorio con la Procura della Repubblica per riservarsi la possibilità di inviare un esposto formale per sollevarsi da ogni responsabilità e individuare gli eventuali colpevoli con conseguente risarcimento dei danni. Un danno che riveste anche l'immagine del Comune in una fase delicata in cui si sta sperimentando la riapertura al transito della zona traffico limitato per andare incontro ai commercianti. Si è riunita oggi presso il Comune di Carrara la conferenza dei sindaci per discutere il progetto di rifacimento del ponte sul Parmignola e la risistemazione degli argeni in seguito all'alluvione. C'erano il sindaco di Carrara, di Sarzana e di Ortonovo. Complessivamente il rifacimento del ponte sul Torrente costerà un milione di euro mentre salvo ritardi i lavori dureranno 150 giorni. E se come previsto il Comune di Carrara bandirà la gara entro fine anno il ponte potrebbe essere pronto prima della prossima estate. Fra le criticità emerse la necessità di garantire comunque la mobilità in quella parte del territorio. Per questo la Regione Liguria si è fatta carico di sistemare un ponte Bailey costruito temporaneamente su via Marinella, un po' più a monte rispetto all'attuale ponte sul Parmignola per garantire la fruibilità della zona al traffico e agli spostamenti. Tra una settimana, dal 12 al 14 dicembre, cambiamo argomento, naturalmente scatterà un nuovo sciopero dei benzinai in tutta Italia. Le pompe di benzina rimarranno chiuse per denunciare la drammatica crisi strutturale che attraversa la distribuzione carburante e colpisce duramente le migliaia di piccole imprese di gestione. Ma la maggior parte dei benzinai sembra essere all'oscuro di tutto, soprattutto di queste motivazioni. Lo sciopero del 14, parteciperai? Sì, assolutamente. Quali sono le motivazioni? Le motivazioni sono quasi sempre le solite, i margini che per noi continuano a calare, il prezzo che continua a salire, di conseguenza meno lavoro, meno persone sul piazzale. Insomma, una situazione un po' critica per noi a Spezia ma comunque in tutta Italia. Potrebbe essere per il rinnovo del bonus fiscale come ogni anno a fine dicembre c'è questa problematica che poi il governo immancabilmente invece rinnova e il sindacato quindi accetta il tutto. Potrebbe essere invece per le nuove tasse che ci arriveranno da un altro anno per per le transazioni sui banco. Matt, per esempio io le posso dire che da un altro anno ogni mese questo impianto dovrà pagare circa 600 Euro mensili per poter accettare le carte di credito. Ma non ne sappiamo ancora niente, il sindacato non ci ha avvertito ancora di niente e stiamo aspettando tutto lì. Noi cadiamo dalle nuvole perché la motivazione non c'è ancora pervenuta. Noi sappiamo comunque di per certo che il 10 di questo mese ci sarà comunque un altro incontro con le ministerie e quant'altro per sanare, per cercare di non fare questo sciopero. Però adesso la ragione è proprio vera, 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 non la so. Quali sono le motivazioni dell'oscillazione del prezzo? Motivazioni non ce ne sono mai, a noi ci dicono che i listini cambiano in continuazione però vediamo comunque che il prezzo al barile cala ma il prezzo sulla pompa non cala mai quindi le compagnie decidono per loro quello che devono fare col prezzo. Tu che sei a contatto con i consumatori, quindi con le persone che si spostano per esigenze di lavoro, quindi di necessità. Com'è cambiata nell'ultimo periodo la situazione dei consumi? È cambiata radicalmente, persone che magari facevano il pieno adesso non lo fanno più, cercano la pompa col prezzo più basso e cercano di fare 20-30 euro, insomma diciamo che siamo in una situazione molto critica. Il rapporto con i margini di guadagno, chiaramente con la benzina il prezzo che è lievitato così tanto, noi abbiamo dovuto esporci maggiormente come capitale aziendale, il margine nostro è sempre uguale che è pari circa 4 centesimi al litro, i costi di gestione sono aumentati, triplicati rispetto a dieci anni fa e non riusciamo più ad andare avanti, chiaramente è una questione proprio economica. La vostra situazione in generale? Ma la nostra situazione in generale è come si può dire giù per i copi, non c'è più tripa per i gatti, noi siamo veramente all'osso e non si vede una via d'uscita, inventano impianti nuovi, ora non so se avete notato un impianto nuovo che verrà qua a Spezza, che sarà di quelli Love Coast, al quale sì, sarà un beneficio per la cittadinanza ma sarà massacrante per noi. Non esiste ad oggi nessun esubero formale né il rischio che i dipendenti non percepiscano lo stipendio, il rischio che corriamo nel 2013 è il medesimo che corre la maggior parte delle province italiane, il dissesto di bilancio. Parole forti, quelle pronunciate dalla commissario straordinario della provincia della Spezia Marino Fiasella che parla di una situazione davvero paradossale. Nel 2012 le province infatti hanno subito un taglio complessivo di 500 milioni di euro, nel 2013 saranno 1 miliardo e 200 milioni di euro di tagli, per la Liguria in particolare il taglio è di 24 milioni nel 2012 e 58 milioni per il 2013. Parliamo di argomenti sicuramente più leggeri e sicuramente più positivi perché una band spezzina vince la Sanremo Rock e realizza un CD grazie al centro giovanile di Alma Ruggero. Il Alma Ruggero conferma anche in ambito musicale il lavoro di promozione e valorizzazione dei giovani talenti del territorio, con un progetto ambizioso diventato realtà, quello della produzione del primo CD dei Libertad dal titolo Vita. Diciamo il comune in un certo senso dà non solo gli spazi ma anche le risorse per questo gruppo di giovani spezzini, un gruppo rock che appunto ha potuto incidere il suo primo CD musicale proprio grazie al di Alma Ruggero e quindi a questa amministrazione. Sapete appunto bene la mia passione e per i giovani e per la musica quindi per me è davvero un piacere quindi invito tutti sabato 8 dicembre al di Alma Ruggero alle 21.30, loro faranno un concerto e in quell'occasione presenteremo appunto il loro primo CD. Inizia così l'attività di sostegno e valorizzazione delle giovani band della città e della provincia con musicisti spezzini vincitori dell'ultima edizione di Sanremo Rock. Il lavoro con i Libertad gode di una collaborazione importante. Claudio Barone, musicista, musicologo, produttore e direttore artistico dell'Associazione Culturale Iniziative Musicali ha affiancato i musicisti e lo studio nel percorso di registrazione dei brani. Come nasce la vostra band? La nostra band è nata nel 2008 e tre di noi facevamo parte già di un gruppo hard rock di Spezia e ci siamo sciolti e abbiamo creato appunto i Libertad con cui siamo arrivati fino a qui perché avevamo iniziato con un genere un po' più pesante, facevamo quasi del metal e poi dato che avevamo delle facce troppo dolci ci siamo adolciti e ora facciamo Alternative Rock. Chiudiamo con le previsioni del tempo, giornata ventosa quella di domani ma soleggiata caratterizzata però da un costante abbassamento delle temperature che oscilleranno tra una minima di 3 e una massima di 11 gradi. E' veramente tutto, vi ricordo che queste altre notizie potete trovarle cliccando sul sito cronaca4.it Da lunedì al venerdì il nostro TG Flash ma nello stesso tempo il quotidiano scaricabile in formato pdf. Grazie e ci ritroviamo domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.